Allora due, i suoi mariti si vanno a nozze e vanno in una pensione, che erano puri scatti i suoi mischini. Poi ci fa sangue, stasera, ma a fare sesso sprenato ci fa il sangue, e lui diceva che c'è il sangue, c'è il tuo padre, diceva, vieni qua, e la mette in un bicone, misa così attaccata in un ferro il bicone, e cominciava, tatatan, tatatan, giustamente, il ciotto era abbastanza giovane per fare il dovere di marito. Abbiamo andato, tatatan, tatatan, perché la scippa ha ferrato il bicone, paff, e le cagano da sotto tutti loro, i da sotto e i da sopra, e non si muoviano, e passava uno mischino che era mezzommiato. Maria diceva, non so come la regista, si fa il testo uno campanello, e la signora dice, chi è? La signora dice, non c'è il burro, non c'è la palazzina, va stasera, non c'è il burdello, e chi ora? Maria dice, c'era una figlia mia, va stasera, non alzo, e sono il re. La signora dice, non c'è il giacomino, non c'è la palazzina, non c'è il burro, non c'è il burro, dingen analizzava, non c'è la palazzina, anche se si fara perché all'interno c'è il burro Grazie a tutti